Il bello e il cattivo tempo, stasera arriva al Bagaglino e finalmente ho anche una bella donna perché in mezzo a tanti uomini che abbiamo avuto, stasera abbiamo la prima donna della Grande Risata, Pamela Prati. Ciao a tutti, siamo qui al Bagaglino, la mia casa, tra poco andrà in scena appunto la Grande Risata di Pierfrancesco Pringitore dal 10 dicembre al 6 gennaio. Che cos'è la Grande Risata? Diciamo una cavalcata, no? E' una cavalcata ma è un locale dove passano tanti personaggi e noi cerchiamo di portare un sorriso in casa degli italiani perché in questo momento ce n'è veramente bisogno. E che bisogna anche investire nel sorriso, quindi mi diamo le nostre amici. Assolutamente sì, anche perché io dico sempre che il sorridere è gratis, almeno questo lasciatecelo. Appunto, quindi è un investimento gratuito. Assolutamente sì. Pamela Prati chi è nella Grande Risata? Pamela Prati è la padrona di casa nella Grande Risata. E quindi accoglie i personaggi che passano in questo locale strepitoso di Roma e in più balla, canta, appresenta, fa tante cose. Fa tante cose, quello che poi è il mestiere vero di Pamela Prati. Faccio Pamela Prati. Faccio Pamela Prati, che non è poco nella vita essere Pamela Prati. Beh, oddio, è sempre una grande responsabilità perché in più mi piace sempre alla prova e andare in scena non è mai molto facile. Vabbè, alla faccia di chi ci ha provato e magari non ci è arrivato. Ti ringrazio di questo, però io do sempre spazio a tutti e vi aspetto qui al Salone Margherita per la Grande Risata. Dal 10 dicembre? Dal 10 dicembre al 6 di gennaio. Baci, ciao!